Chers amis, buonsoirà. Rassurovi, non è io che chiederò. Siamo fatti di accettare questo giorno Enrico Ruggeri. Prosegue la trasferta parigina di Arezzo Wave che ha portato nella capitale francese alcuni degli artisti più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano con un calendario variegato di proposte tra musica e letteratura. La collaborazione continua e aumenta e vorremmo tanto che Arezzo, grazie a questa collaborazione con l'Arezzo Wave e l'Istituto di Cultura, possa essere apprezzato anche da tutto il pubblico parigino che viene alle nostre serate. Sette i concerti in programma sino al prossimo 15 dicembre, uno al mese, nel giardino e nei saloni del prestigioso Hotel Galifè, sede dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. L'Hotel di Galifè è uno dei posti storici della Francia e di Parigi dove c'è abitato Napoleone, Taillerand, dove c'è passata proprio la storia. Siamo a 50 metri dalla residenza di Macron, dall'ambasciata italiana, quindi siamo proprio nel salotto buono a presentare i migliori prodotti. Tra i protagonisti di Parigi Wave anche Enrico Ruggeri che si è esibito lo scorso 7 luglio e Paolo Benvenuto. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più.